Il Boschetto Ricci, la memoria salvata, un volume scritto da Lidia Pignanesi con il contributo di Rosanna Raffaella, un volume che racconta la dimora dei nobili Ricci, di Teodoro Ciccolini, pronipote di Manzoni e D'Azeio, una raccolta che nasce perché per lei? Innanzitutto io penso che ogni persona dovrebbe scrivere la sua storia, perché la storia della vita di ognuno è un granello della storia universale, e quindi ognuno ha una storia particolare, unica. Io e le mie sorelle abbiamo avuto una vita particolare perché abbiamo vissuto appunto al Boschetto Ricci. Il Boschetto Ricci è una località vicina alla frazione di Sforzacosta, la frazione di Macerata, e per noi è stato un paradiso perché era effettivamente un paradiso, perché è una villa circondata da tre ettari di parco, e intorno al parco c'è una tenuta, c'era, una tenuta di 350 ettari, campi molto fertili. Il Boschetto Ricci bisognava raccontarlo, e soprattutto bisognava raccontare il suo ultimo proprietario, che è stato il Marchese Teodoro Ciccolini, una persona eccezionale, che mio padre e mia madre hanno conosciuto, e anche mia sorella maggiore hanno conosciuto personalmente, perché mio padre era custode e giardiniere della villa, quindi ha avuto in cura per quasi 60 anni il giardino e il parco. Un racconto che nasce dunque da una storia vissuta, però quale stile si è dato anche nella raccolta di foto, documenti? Gran parte del libro è diciamo una riorganizzazione dei nostri ricordi, di quello che abbiamo vissuto e anche di quello che abbiamo sentito raccontare da nostro padre e nostra madre. Poi però i nostri ricordi sono sempre supportati, per quanto è stato possibile, ho cercato di supportarli con documenti, documenti, libri trovati in internet nella biblioteca di Mozzi Borgetti di Macerata, e negli archivi della famiglia Ricci, nell'archivio di Stato. Ho cercato dei documenti in giro, però il libro non si può considerare un testo storiografico, quindi ho preferito più basarmi sui documenti più recenti, dall'Ottocento in poi. Qual è il fine di questa lettura, di questa memoria salvata? Mi piacerebbe che questo libro servisse per celebrare il Marchese Teodoro, il Marchese Teodoro Ciccolini, che alla sua morte ha voluto che tutto ciò che lo riguardava, documenti, effetti personali, fosse distrutto. Però il Marchese fu una persona eccezionale e va fatta conoscere, secondo me, anche ai giovani. Questa figura del Marchese propone dei valori che sono andati un po' perduti e quindi sarebbe molto bello se diventasse anche per poco un esempio per i giovani. Poi anche presentare diversi personaggi della famiglia Ricci, che uomini molto importanti per la macerata, per la storia di macerata, delle Marche, dell'Italia, studiosi, politici, gente in gamba, che pure stanno sprofondando nella dimenticanza, non se li ricorda più nessuno e mi è piaciuto riportarli un po', riportare la loro memoria alla luce. Ho trattato anche qualche dama. Una dama in particolare c'è da segnalare ed è stata Alessandrina Ricci. Alessandrina Ricci era la figlia di Massimo D'Azelio. Lei, quando ha sposato Matteo Ricci, si è trasferita, diciamo, ha voluto, ha scelto come dimora il boschetto Ricci, dove le esovava particolarmente l'aria. E quando è morta è stata seppellita nella cappella che è a fianco della villa del boschetto.